Sempre con questo fatto della mamma chioccia, allora io vorrei intanto chiarire con te una cosa, io sono mamma di 4 figli, gli ho cresciuti e so cosa significa essere una mamma protettiva, io qui non sono una mamma protettiva, io qui sono Lorella Cuccarini, una donna di spettacolo che fa questo mestiere da 35 anni e che in questa situazione sente la responsabilità di accompagnarvi e di proteggervi sì, anche quando ci sono delle iniquità, quindi io quando dico qualcosa, non è che lo dico perché sto lì col gonnone e vi metto tutti sotto la mia gonna, non è questo, se io dico qualcosa è perché ci credo fermamente, questo non è un waltzer.